Napoli non è solo ragù. Tra street food, pizze, sfogliatelle tradizionali si fa a largo una nuova ristorazione in città. Questo è l'obiettivo di Sancta Sanctorum che porta nel cuore del salotto buono di Napoli un concetto innovativo di ristorazione internazionale, esclusiva ma non snob. In un edificio Liberty snodato su tre piani il ristoratore Stefano Parisioli, imprenditore Anteo Letticino e lo chef Due Stelle Michelin Francesco Sposito hanno organizzato un evento per presentarsi alla città con ospite d'eccezione l'attrice Cristina Donadio. Questo adesso lo bevo veramente alla salute di questo posto perché credo che Napoli meriti dei posti del genere e poi abbiamo aperto una porta, adesso c'è tutto un mondo da scoprire e sono curiosa e non vedo l'ora di scoprirlo e che lui mi faccia da cicerone nel cibo e nel bere. Naturalmente c'è secret nel nome della serata, che significa? Ci saranno chef che si alterneranno in segreto? Assolutamente sì, l'idea è proprio quella lì di essere un ristorante divertente e quindi anche di proporre mano a mano nel corso dell'anno fare un calendario e proporre una serie di giovani chef. Vogliamo unire proprio quello che è l'eccellenza nei piatti grazie al nostro grande chef ma anche un locale internazionale divertente nel mood dove non c'è bisogno di giacca e cravatta come in un ristorante diciamo due, tre stelle Michelin quindi più impettiti ma ci si può divertire, essere rilassati gustando del buon vino, champagne e dell'ottimo cibo. Grazie a tutti.